Da Il giardino segreto di Francis Hudson Burnett Sono sicuro che il mondo è pieno di magia, disse un giorno Colin con molta serietà, ma la gente non sa come si manifesti. Forse basterebbe esprimere più volte con una frase e il desiderio che qualcosa avvenga per farla avvenire veramente. Voglio provare. La magia è una grande cosa di cui nessuno sa niente tranne pochissima gente che ha scritto dei vecchi libri. Io sono sicuro che la magia regni un po' dappertutto, ma che noi non la conosciamo abbastanza per padroneggiarla, per sfruttarla, come facciamo con l'elettricità, i cavalli e il vapore. Quando Mary entrò in questo giardino per la prima volta, le piante sembravano morte. Poi qualche forza misteriosa cominciò a spingere fuori dal terreno quelle piantine, a farle nascere dal nulla. Un giorno non c'era niente e il giorno dopo spuntavano. Io non avevo mai visto niente del genere prima di allora e questo fenomeno mi incuriosì. Gli scienziati sono sempre curiosi e io sarò uno scienziato. Cominciai a chiedermi che cos'è tutto questo? Come accade? È certamente qualcosa, non è possibile che non sia niente e non sapendo che nome dare a questo fenomeno ho pensato di chiamarlo magia. La magia è sempre presente, spinge, tira e fa spuntare le cose dal nulla. Tutto è opera di magia, foglie, alberi, fiori, uccelli, tassi, volpi, scoiattoli e persone. La magia deve perciò essere intorno a noi, in questo giardino, in ogni luogo. In questo giardino la magia mi ha fatto stare in piedi e mi ha dato la certezza che vivrò e che diventerò un uomo. Ora voglio fare questo esperimento scientifico, voglio cercare di avere anch'io un po' di magia, di metterla in me stesso e di fare in modo che mi spinga, mi tiri e mi faccia diventare forte. Io non so come devo fare, ma credo che se voi vi metterete a pensarla e la chiamerete, forse lei verrà da me. Forse questo è il primo modo di ottenerla. Ogni mattina, ogni sera, durante il giorno, ogni volta che me ne ricorderò dirò a me stesso l'incantesimo è in me, l'incantesimo mi farà star bene. E se continuerete a farlo anche voi ogni giorno, con la regolarità del soldato che esegue gli esercizi militari, vedremo che cosa accadrà e sapremo se l'esperimento avrà successo. Noi impariamo a memoria le cose a furia di ripeterle e pensando continuamente ad esse, finché non ci rimangono impresse nella mente, io credo che sia così anche per la magia. Se continueremo ad invocarla perché venga ad aiutarci diventerà parte di noi stessi ed opererà per nostro conto. Si sedettero in cerchio e Colin cominciò. Ora cominceremo, disse. Mary, dobbiamo dondolarci avanti e indietro come fanno i fakiri che hai visto in India. Ah, no, per ora canteremo solamente. E cominciò a cantare. Il sole splende, il sole splende, questo è l'incantesimo, i fiori sbocciano le radici, cominciano a muoversi. Questo è l'incantesimo, è una magia esser vivi, è una magia esser forti. L'incantesimo è in me, è in me, è in me, è in me. E in ciascuno di noi, magia, magia, viene aiutarci.